Amici Trevimito, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Ancora atmosfera molto instabile sull'Italia, tra l'altro anche nelle regioni meridionali cominciano ad arrivare un po' di nuvole, un po' di acquazzoni, insomma cambia la massa d'aria sul nostro paese. Andiamo a controllare proprio la nuvolosità attesa e come vedete la gran parte delle nuvole interesseranno le regioni centrali e parte del nord, soprattutto al nord est, ma piano piano qualche annovolamento comincia a farsi vedere anche al sud e in effetti anche lì arriverà qualche piovasco, anche se il grosso delle precipitazioni per questo lunedì è atteso nelle regioni centrali, avremo ancora una volta la possibilità di qualche temporale, qualche acquazzone, poi nel pomeriggio si riformano dei temporali anche su parte del nord, diciamo specie al nord est e qualcosina si intravede anche al sud, quindi in definitiva c'è un lunedì molto variabile e instabile. L'Italia centrale sarà la zona in cui le piogge sono più probabili e diffuse, compresa la Sardegna, anche al nord est diciamo qualche nuova acquazzone specie nel pomeriggio e qualche goccia di pioggia comincia a interessare anche il versante tirrenico della Sicilia, l'alta Campania e la media alta Puglia. Fatto sta che comunque anche al sud i venti ruotano dai quadranti settentrionale nella seconda parte del giorno e le temperature cominciano a diminuire. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.